Potrebbe essere stato qualcosa di diverso da un problema cardiologico, ad esempio un ictus, a colpire il 58enne Adam Zechiri pochi istanti prima di finire con la sua Opel contro un camion che riscendeva da Garrano lungo la statale 81. A certificare l'ipotesi di un malore prima dell'incidente mortale di lunedì pomeriggio a piano della lente sarà l'esito degli accertamenti sui prelievi eseguiti ieri sera nel corso dell'atopsia e il risponso di questi approfondimenti clinici non arriverà prima di un mese. L'anatomopatologo Giuseppe Sciarra che ha eseguito l'esame all'obitorio del Mazzini su incarico del PM Laura Colica ha potuto per ora rilevare che il giardiniere di origini macedoni ma da anni residente a Teramo è deceduto per lo shock emorragico seguito al drammatico impatto. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale delegando gli approfondimenti investigativi alla polizia stradale di Teramo che ha già acquisito le testimonianze del conducente del camion che ha rallentato e si è fermato quando ha visto la Opel invadere la corsia opposta e dell'autista dell'autobus di linea che ha assistito all'incidente verificatosi all'altezza del distributore di benzina petrolgamma. Adam Zekiri viveva con la moglie in un alloggio di Villa Gesso mentre i tre figli da tempo sono all'estero.